Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Colpo di scena a pomeriggio 5, la chiamata in diretta che lascia di sasso la padrona di casa Mirta Merlino. Anche nell'ultima puntata nel salotto televisivo Mediaset si è continuato a parlare della vicenda dell'eredità di Gina Lollobrigida. Nella puntata in questione, ha voluto dire la sua anche l'avvocato di Francisco Avier-Rigau e della famiglia di Gina Lollobrigida. L'uomo ha fatto quindi sapere che la donna sarebbe stata giudicata incapace di fare scelte consapevoli dagli psichiatri. Ma non è finito, perché il legale di Francisco Avier-Rigau ha anche affermato qualcosa di compromettente su Andrea Piazzolla, il famoso factotum della famosa attrice italiana. Ed è qui che scatta il colpo di scena a pomeriggio 5. Il giovane infatti, per la seconda volta, decide di chiamare in diretta il programma di Mirta Merlino e di dire la sua, cercando di contrastare quello che stava dicendo l'avvocato. L'uomo ha quindi interrotto la scaletta della diretta. A questo punto Mirta Merlino quasi incredula dice ai suoi telespettatori e agli ospiti in studio, scusatemi un secondo. Mi dicono che c'è di nuovo Piazzolla in linea come ieri. Ci ha richiamato Andrea Piazzolla. Ho capito bene. C'è Andrea? A questo punto il giovane saluta tutti e Mirta Merlino gli chiede di attendere un secondo per far terminare di parlare Vladimir Luxuria. Poco dopo Andrea Piazzolla è pronto per parlare, ma Mirta Merlino lo interrompe di nuovo e dice, «Andrea, quando è che passiamo da un rapporto telefonico ad averti qui in studio dal vero? Almeno ti conosco. Prima o poi dovrò pure conoscerti e…». L'uomo non gli ha risposto nel merito, dicendo semplicemente di essere grato che oggi in studio ci sia Vladimir Luxuria, visto che ha avuto modo di conoscere da vicino Gina Lollobrigida. Piazzolla allora dice, «Innanzitutto sono felice che lì ci sia Vladimir, una persona che ha realmente frequentato e conosciuto Gina, come anche Tiziana Rocca punto sono persone che sanno le cose». A questo punto la padrona di casa cerca di tamponare preventivamente e dice che Maria Corbi è bravissima, è una bravissima giornalista con un'onestà intellettuale specchiata. Non è che chi non ha conosciuto la Lollobrigida allora non può dire la sua opinione su questa storia. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.